e aspetta, tu dici che questo è il mio passatempo e poi dici che questo è il mio risultato va bene, allora questo è il mio passatempo che faccio quasi sempre aspetta, firma che dico allora va bene, l'ho ripetito i funci, papà qua? io l'ho ripetito a te prima che hai detto questo passatempo da qui ci vuoi dire? si, provate, dove sono i funci? da qui lì, da qui si stanno gonfiando, si stanno gonfiando, si stanno gonfiando e poi sono i funci qui, da qui, fra 7-8 giorni, i funci, i funci, i piccoli e i piccoli allora, allora, dopo di quel, dopo 15-20 giorni, vengono tutti questi funci pensi che qualche cosa, che questi sono i piccoli più grossi e pochi più piccoli, vedi? questi sono i piccoli, perché facendo questi grossi, vedi? come stanno facendo i piccoli grossi, questi piccoli non cresci e non la pentiglia un'alua è di chi tratta sopra, un'alua è di chi tratta sopra questo è quello che faccio più grosso questi domani, incominciamo a mangiare prima c'è i conflitti eh, tutto tremeni dato sto o per oh ma oh il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.